Hai mai provato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per fare trading? Allora, ti posso rispondere certo e te lo dimostra la Lamborghini che ho qua giù in portile. No, comunque la risposta seria è no, non ci ho mai provato e so che ci sono tante applicazioni molto valide del reinforcement learning che è una branca del machine learning e viene molto usato soprattutto in finanza, però non ti saprei dire molto di più in quanto non ci ho mai provato e credo che per fare qualcosa di serio in questo ambito bisogna avere tante risorse soprattutto a livello hardware e grandi team di data scientist che studiano magari una vita solo serie storiche e questo tipo di parte della data science, quindi personalmente no, però una cosa che vi dico è anche di diffidare un attimo dalle persone che magari vi dicono prendete la data science e riuscirete a fare previsioni sull'andamento del bitcoin, cioè è impossibile ragazzi. Sì, anche perché sennò tutti lo farebbero, cioè. Sì, con un modello Arima riuscite a prevedermi l'andamento del bitcoin, vi chiedo che parametri avete usato. Anche perché in economia c'è questo fenomeno strano dove se tutti prevedono la stessa cosa poi questa cosa non si verifica, quindi è tutto un casino perché le stesse previsioni che puoi fare tu le può fare chiunque altro e queste previsioni è come se si annullassero a vicenda, quindi non è facile questa cosa. No, non è assolutamente, cioè è fattibile, cioè qualcosa si può fare ma non sarà mai calcolare l'andamento preciso, cioè l'errore ci sarà sempre e tante volte, soprattutto grandi hedge fund, giocano tanto sull'arbitraggio, cercano opportunità del mercato attraverso dati e queste cose e non è proprio banale per un singolo, quindi non mi sono mai interessato particolarmente. Una cosa che si può fare invece a livello matematico con la data science è la riduzione del rischio del portafoglio, questo sì, si fa ed è anche, non dico semplice, ma sono delle applicazioni che esistono e che sono molto più realistiche, cioè ottimizzare i tot soldi che hai su diversi investimenti in modo da minimizzare quello che è il rischio di andare in negativo. Ecco.